La seconda ondata del Covid avanza inesorabile anche sul territorio dell'uslotto Berica. 1.700 attualmente i soggetti positivi a casa, 140 i positivi al giorno. L'ospedale San Bortolo, se non in sofferenza, si vede costretto nei prossimi giorni a mettere in stand-by gli interventi programmati, mentre si riducono reparti per ricavare personale medico e infermieristico anche a fronte di personale positivo al Covid. Abbiamo lievemente ridotto l'area chirurgica sia nella parte ortopedica per otto posti letto, ritorna alla dotazione che ha durante le ferie estive, quindi non è una vera riduzione, e anche nelle chirurgie specialistiche, otorino, maxillo e chirurgia plastica. Questi qui si hanno una riduzione di una decina di posti letto proprio per recuperare del personale e poter aprire delle aree Covid. Chiusa la lungodegenza dell'ospedale di comunità di Valdagno, causa personale positivo, sarà riaperto dopo la sua sanificazione, chiusa e recuperata dalla lungodegenza di Lonigo. È il contact tracing, il tracciamento dei contatti, oggi ad essere in difficoltà. La mole dei positivi vede una media settimanale di anche 3.000 persone da contattare. L'uslotto corre a ripare e rinforza la squadra del SISP, il Servizio Eugiene e Sanità Pubblica. Abbiamo reclutato otto medici tirocinanti del territorio, che ci stanno dando una mano da ieri, tecnici della prevenzione e altro personale sanitario che si è offerto volontariamente. A pesare sono quei contatti sociali che il nuovo DPCM vuole limitare al massimo, mentre restano da smaltire entro la settimana ancora 700 soggetti. Per chi ancora non è stato raggiunto dal SISP, è partito da domenica un servizio SMS, con il quale il soggetto viene informato che sarà contattato al più presto, ma allo stesso tempo vengono fornite indicazioni sui comportamenti da tenere. Si lavora sulla e con il territorio in una stretta sinergia con i sindaci, che da oggi avranno oltre ad una mail diretta alla quale scrivere anche una persona dedicata. L'altra grande questione è la scuola. Abbiamo 130 classi in questo momento dall'inizio della scuola, con almeno un positivo, più o meno un 30-40 nate, perché abbiamo trovato un ulteriore positivo, e una media di 15 classi tamponate ogni giorno. Sotto controllo le case di riposo e i loro 3.800 ospiti, rafforzata la presenza sanitaria con un medico in servizio.